Il terzo Reich Il terzo Reich Erman Göring, comandante della Luftwaffe La missione è stata affidata a te, uno dei migliori paracadutisti della SAS. Le possibilità di successo sono minime. Buona fortuna e buona caccia. La missione è stata affidata a te, uno dei migliori paracadutisti della SAS. La missione è stata affidata a stabilire l'attuale posizione di Josef Goebbels. Risiede in una villa nei soborghi di Vervan. Sarai paracadutato sui campi che circondano la città. La tua missione è rifarti strada attraverso Vervan e incontrare l'informatore che ti sta aspettando in uno degli edifici dall'altra parte della città. Attento! Vervan è controllata dai nazisti che sono determinati a proteggere Goebbels da ogni tentativo di assassinio. La sua missione è stata affidata a te, uno dei migliori paracadutisti della città. La sua missione è stata affidata a te, uno dei migliori paracadutisti della città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.